Good morning Milano! Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti! Oggi si inizia col botto, così, senza motivo, così, de botto appunto. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti! 7.08, iniziamo con il botto alle 7.08 di martedì 21 maggiotto, perché sennò non mi veniva la rima. Quindi ho la forza a far così. Come state? Cosa fate? Avete già cambiato canale dopo questo mio inizio? Avreste fatto molto bene. Ma invece no, rimanete con noi, vi supplico, vi prego, perché davvero questa mattina abbiamo una grande mattinata, pregna di informazioni, soprattutto dopo la nottata bagnata, umida e insomma anche allerta. Perché attenzione, San Donato, scuole chiuse, lo sapete? San Donato, scuole chiuse. Hanno chiuso le scuole ieri sera, hanno comunicato ieri sera di Comune e Protezione Civile che hanno chiuso le scuole. Settimo milanese, questa mattina alle 6 decideva la dirigente scolastica, ho capito bene, quindi allerta, comunque tutti in allerta, perché c'era stata un'allerta prima arancione, ma poi nella notte, nella serata in realtà, scusate. Sì, per me è notte, perché andando a letto alle 9 e mezza di sera, effettivamente era già notte per me. Però nella serata, poco prima delle 9, più o meno, è stata diramata un'allerta rossa. Grandi criticità, la città sembrerebbe che stia tenendo, adesso poi vediamo tutto bene, insomma, durante la mattinata con le notizie, Granella ha già fatto una dichiarazione, poi andiamo a leggere, la stossessore alla sicurezza del Comune di Milano. Insomma, questo è il menù della mattina, non parleremo solo di maltempo, ma anche di tanto altro, ma soprattutto ci auguriamo invece che sia una bella giornata, o meglio, che sia un Beautiful Day. U2, U2, U2 con Beautiful Day alle 7 e 14 minuti, augurandoci appunto che possa essere un Beautiful Day oggi, non un day tremendo. Poco meno di 20 minuti fa, Marco Granelli ha fatto una dichiarazione, è uscito appunto con un aggiornamento, perché dice che Allerta rossa, aggiornamento appunto alle 6 e 30, non risultano particolari criticità, nella notte costanti piogge in città e a nord, ma di bassa e media intensità. Seviso costante con livelli intorno al metro, anni guarda, grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo, costantemente attivo. La vasca per ora non è utilizzata, il Lambro è costante a 2,15 metri circa a Milano via Feltre, quindi parco Lambro, quindi elevato ma non a livello esondazione. Al quartiere Ponte Lambro, monitoraggio costante da parte di protezione civile e per ora nessun allagamento, comunque pronte per intervenire idrovore e motopompe. Sottopassi aperti, situazione alberi, in corso un intervento in corso di piazza, un intervento in corso in piazza Peruchetti per rami su rete ATM, ma nessun altro problema per ora. Scuole aperte, raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti, monitoraggio radar in corso per verificare l'eventuale intensificazione dei fenomeni. Un grazie a tutti coloro che al COC, che sarà il centro organizzazione, un comitato, non lo so voi, di protezione civile, nelle diverse centrali di MM idrico, nella vasca del Seveso, dalla polizia locale, ATM, di AMSA, in strada, nelle diverse località, hanno lavorato tutta la notte. I livelli alle 6,30 idrometrici per il 21 maggio sono stati Seveso, Cesano Maderno, 1,6 m, Palazzolo 0,20 m, Ornato 0,74 m, Valfurva 0,88 m, cioè quanti centimetri sopra allo zero idrometrico. Il Lambro invece a Pregallo è a 1,31 m, invece in via Feltre è a 2,13 m, quindi alto, molto alto, ma non a livello esondazione. Questo è il comunicato che ha fatto uscire il nostro Assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, Assessore del Comune di Milano, Marco Granelli. Vi do conferma, appunto, dai siti istituzionali sono andato a controllare Settimo Milanese, scuole aperte, nella notte era uscita una possibilità di chiusura delle scuole, ma avevano rimandato la decisione a questa mattina alle 6, tra Protezione Civile e Dirigente Scolastico, che alle 5,30, pensate pure in anticipo, si sono rincontrati e hanno deciso di non chiudere le scuole. Non so se è proprio comodissimo aspettare fino ai 5 mattina per sapere il destino dei tuoi figli, comunque vabbè. Cosa invece che ha fatto Sandonato, ha deciso invece di, già ieri sera, diramare una comunicazione, per cui ha firmato l'ordinanza, il sindaco di Sandonato Milanese ha firmato l'ordinanza, che prevede la chiusura in via prudenziale, sulla scorta dell'allerte diramate dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione, Lombardia, e per le prossime ore delle scuole e di edifici pubblici, dei principali edifici pubblici della città. Quindi scuole, centri diurni, ma anche alcuni uffici, tutto chiuso e si raccomanda appunto di non uscire se non strettamente necessario. Questo del comune di Sandonato Milanese. Elisa, nostro producer, dove abiti Elisa? Doviamo dirlo a Sandonato Milanese appunto, però stamattina è arrivata tutto tranquillo, tutto sereno, giusto? Sì, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Qui nella zona ovest le piogge in questo momento non sono così intense, invece dalle vostre parti come sta andando? 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Facciamo le sentinelle dell'acqua oggi, ok? Seveso, Lambro, Navigli, Mozzetta, Tombino di sotto casa vostra, cioè qualsiasi cosa vogliate condividere con noi, noi siamo qui pronti. Come Alberto, che ci scrive un saluto a chi è in ascolto questa mattina, e al direttore Fabio, tra terremoto al sud e lagamenti al nord iniziamo questa giornata che potrebbe essere complicata. In tutto questo aggiungiamo lo sciopero dei taxi, sì, perché anche loro hanno deciso di fermarsi, ma credo che però non ci sia una decisione così alta, perché insomma appunto, dato il meteo... Ma sentiamo, luce verde? Lo stato sociale, una vita in vacanza, quello che oggi faranno i bambini delle scuole di Sandonato e anche di San Giuliano, perché anche San Giuliano milanese ha deciso di tenere per invia prudenziale, non precauzionale, prudenziale, vabbè, non avevo mai letto questo... Cioè, ne si sono... Sì, sì, ha senso, per prudenza, prudenziale, proprio precauzionale, per precauzione. Comunque, scusate, ogni tanto mi faccio queste menate. Comunque, il Comune di Sandonato milanese ha deciso anche, ha inchesso, di tenere chiusi le scuole. Quindi, Sandonato e San Giuliano, entrambi chiusi, quindi... Però sono comuni confinanti, sono vicini, quindi sicuramente c'è qualche amico, qualche festa a casa di qualcuno era fatta. No, spero di no, perché in realtà questa cosa viene fatta proprio per non dover... per tenervi in casa e non uscire. Non che si riflessano i parchi, io me lo vedo già. Me la vedo già qualche genio che dice, sai che c'è oggi non è... Andiamo al parco, ma sta piovendo, sta diluviando, ci sono gli alberi che cadono. No, andiamo al parco, fa bene alla salute del bambino, respira, che poi, mio Dio, ha un parco tra Sandonato e San Giuliano, non so quanto bene faccia respirare tra tangenziale est, ovest e autostrada, che tutto si congiunge lì, insomma, non lo so. Vabbè, al massimo fatevi un giro la bindi e mangiare qualcosa di buono, che è tanto lì vicino, quindi volendo. Comunque, 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 questa è la situazione attuale del meteo, che appunto è... Insomma, sappiamo un po' di giorni ormai che va avanti, anzi, io ritorno su una dichiarazione fatta qualche giorno fa dal sindaco Sala, perché dopo la risondazione di 4-5 giorni fa, quando appunto Ponte Lambro è finito sott'acqua, insomma, dove la vasca del Seveso ha funzionato per 10 ore, ma poi comunque, mi guarda, è finita sott'acqua, meno forse delle altre volte, ma comunque sott'acqua. Ma soprattutto, insomma, le immagini di Ponte Lambro hanno fatto il giro del mondo, nel senso che davvero è una roba pazzesca. Oltretutto, non è solo lì, perché anche nel comune di Gessate, a est, è tutto sott'acqua, quindi, insomma, non è che proprio è solo colpa del Lambro in quel tratto lì, no? Comunque, sta di fatto cosa che Granella aveva già buttato lì un po', dicendo, eh, però, se funzionassero tutte le vasche, non ci sarebbero questi problemi. Quindi, Sala ha adalzato ancora di più la posta in gioco, perché ha detto, anche per il Lambro servono una vasca. Ci sono già delle vasche, dei cronali su a nord, nella provincia di Como, nella provincia di Lecco e Como, ma non ci sono, appunto, nella parte più bassa, quindi verso noi. E quindi, e quindi, io dico solo, cittadini, state attenti, questo dico. Nel senso che non è detto che le vasche siano la soluzione a questi problemi, ecco, nel senso, cioè, non credo che sia, insomma, la cosa più giusta da pensare, o meglio, non credo che fatte come sono le altre, forse bisognava un attimo ragionare. Tanto che, appunto, la dichiarazione dice, serve una vasca per il Lambro. Sono problemi che anni fa non si ponevano, ma oggi sono diventati molto importanti, ha commentato appunto il sindaco Sala. Allora, anche qui, che siano problemi che non si ponevano gli altri anni, non lo so, perché, cioè, Lambrate, il Ponte Lambro e la zona lì di Via Feltre, che finisce sott'acqua, sono anni, anni, decenni che finisce sott'acqua, quindi non credo che non ci si ponesse il problema. Non lo si guardava, che era diverso. Adesso, però, come sempre, arrivare nel momento emergenziale, io lo trovo veramente un po' così, facile, nel senso. Cioè, bisogna, secondo me, facciamo andare tutti via tutto il problema, diciamo, ne ragioneremo, poi ci fermiamo un attimo in una stagione dove non piove e si ragiona su cosa si può fare, che quindi è l'invarianza idrica, che quindi è magari togliere un po' di costruzioni da intorno ai canali. Insomma, ci sono tante, tante soluzioni che si possono adottare. Poi, in estremi, se anche le vasche, però forse non dovrebbe essere la prima cosa buttata lì così, anche perché sai come i cittadini poi reagiscono bene, no? Quindi, insomma, cerchiamo di mantenere la calma. Piccola pausa, torniamo fra pochissimo a un paio di canzoni e poi siamo qui con voi. The Jacksons, il famoso Jackson 5, Don't stop till you get enough. Alle 7.37 minuti, sempre qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, per raccontarvi un po' quello che succede in città. Ma soprattutto, grazie a chi al 3317853555 ci sta scrivendo, Whatsapp appunto che ci vanno andati tutti i giorni per condividere con noi la vostra mattinata e grazie anche a un certo tipo di pubblico che abbiamo, insomma, fatto di saggi. Noi abbiamo dei saggi che ci seguono ogni mattina e tra questi, ad esempio, c'è un saggio zen, detto Zennello, Zennello che tutte le mattine spesso ci scrive e oggi, partendo da una osservazione della realtà, perché questo che fa il saggio osserva la realtà, inelabora un pensiero e dice appunto al 3317853555 Zennello ci scrive che l'Italia è spaccata in due dal maltempo e questo è il dato di fatto assodato e da qui parte un'elaborazione mentale del grande saggio zennello che dice l'importante è bere tanta acqua. Così. Voi dovete prenderlo adesso, adesso ragionate tutto il giorno su questa massima che vi ha regalato, oltremmo in zia gratis, quindi insomma ringraziate anche solo per questo, il nostro saggio zennello e quindi insomma è importante e bere tanta acqua. Ok. Ok. Questo è quanto. Non sto a dilungarmi se ci arrivate bene, se no non è colpa mia. Cioè nel senso che lo zen va capito, quindi non è che devo stare a spiegarvelo, no? Cioè la mente vola alta del monaco zennello, capito? Quindi insomma non è che posso stare qua a spiegarvi tutto. Come invece non vorrei ad esempio rubare il lavoro ai ribì che sappiamo tutte le venerdì. Viene qui appunto in diretta con noi a raccontarci gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe. E spesso sono eventi dal titolo un po' particolare. Allora quello che sto per leggervi è un po' particolare per noi maschetti perché siamo dei pirla, diciamoci la verità e quindi ogni volta conoscevo la parola lì uno non si può dire, non si può dire. Perché, e leggo da Repubblica Milano, torna a Milano il Festival del Ciclo Mestruale. Talk e dibattiti su corpi e diritti riproduttivi. Il Festival del Ciclo Mestruale promuove la consapevolezza e la discussione sui temi legati al ciclo mestruale, alla salute riproduttiva e alla parità di genere. Giunto la sua terza edizione, quindi qua è tanto affare... ma già terza edizione, pensate. Si terrà dal 24, scusate, al 26 maggio presso il Rob De Mat in zona d'Ergano a Milano. E ci sarà un po' di tutto, workshop, talk, con esperti, esperte, attivisti, attiviste e momenti di intrattenimento. Ecco, su questo io sono un attimo scivolato però perché vorrei capire com'è il momento di intrattenimento legato al ciclo mestruale. cioè non so, facciamo una gara di lancio dell'assorbente. Cosa facciamo? Facciamo delle... Sapete quel gioco che devi svuotare con il cucchiaino, con le coperte mestruali svuotiamo il secchio per spostare l'acqua. Cioè non lo so, ecco, è l'intrattenimento che mi ha lasciato un attimino. Mi auguro sia semplicemente qualcuno che canta e suona e beh, cioè cose del genere. L'intrattenimento un pochino mi ha così. Però è molto interessante perché appunto si va a toccare un tema che ripeto, si buttano i maschietti ogni volta, non si può dire che schifo così, che invece è una roba con cui le nostre colleghe, i nostri compagni di scuola, di classe, di lavoro, le nostre compagnie di vita tutti i mesi ci hanno a che fa. Quindi insomma, noi possiamo anche girarci dall'altra parte per finire che non esiste, mai esiste. E quindi sono contento che insomma anche per questo tema vengono fatti festival per tutto. Posso dire che almeno su un tema così importante forse mi venga che... Anzi, perché è solo la terza edizione vi vorrebbe da dire. veramente ci sono festival ragazzi che ci sono festival... Comunque nel senso ci sono festival in cui forse anche il nostro monaco zennello troverebbe difficile riuscire a chiudere e a trovare una chiosa. Quindi insomma, l'importante comunque appunto è disegnatevelo dal 24 al 26 maggio a Rob The Mat il festival del ciclo mestruale. E Blackout Baby K 7,43 minuti ancora qui in diretta su Crystal Radio il monaco zennello il monaco zennello si è svegliato ancora con una massima perché parlano di ciclo ha voluto scriverci e io pirla che lo vado anche a leggere io ho il ciclo col cambio Shimano e poi scrive anche pur parlando da solo riesco a darmi delle pessime risposte ma devo dire che almeno su questo è conscio di quello che combina. Comunque a proposito di cambio Shimano a proposito di biciclette a proposito di mobilità ritorniamo sulla notizia di Via Libera vi ricordate questa iniziativa nata qualche cioè che il 16 maggio ha visto il suo culmine ma nata appunto da un tutto un gruppo di cittadini associazioni che si sono messi insieme e hanno creato delle squadre per monitorare in una notte sola cioè quindi tutti nello stesso momento come fosse la sosta selvaggia nella nostra città la sosta irregolare e iniziano uscire i dati insomma c'è un po' di anche infografiche in giro per il web quindi andiamo a leggere ad esempio quella del Corriere della Sera ricordiamo che sono state trovati 63.990 auto mezzi auto in sosta irregolare ok quindi 64.000 auto posteggiate mali di cui 37.000 sulla strada 11.500 in zone di aree verdi e 15.000 e passa su marciapiedi ok questo è quello che avete quello che si è trovato ma dove erano posteggiate queste auto quali sono le vie o le zone più critiche allora le zone più critiche sono Buenos Aires dove sono state trovate 3.260 auto posteggiate male città studi 3.000 Villa Pizzone Piazzale Selinunte Corso 22 Marzo e Bande Nere come zone non sto dicendo proprio la piazza e così le vie invece la via più la via critica Viale Campania che solo in Viale Campania trovate 454 auto non sosta regolare quindi sosta irregolare cioè una ogni 2 metri e mezzo cioè vuol dire meno di una ogni macchina perché una macchina sono quasi 4 metri quindi vuol dire che tra i due lati c'era una ogni macchina praticamente una macchina sia una macchina no anzi tutte praticamente tutte tutta la via poi via Ricciarelli zona Municipio 7 zona San Siro Piazzale Selinunte Segesta ok una auto ogni 3 metri in divieto di sosta e poi via Giambellino un'auto ogni 10 metri in divieto di sosta ok queste 64.000 auto andrebbero a coprire mediamente 547.000 metri quadri ok e qui torniamo sempre a dire quanto è un metro quadro un metro quadro un metro per un metro ok ma già 4 metri quadri uno fa fatica a capire quant'è pensate a capire quant'è 547.000 114 metri quadri sfido chiunque di voi a capire quanto sia presto fatto grazie Corriere della Sera che mi fai subito la giusta la giusta equivalenza ok e mi dici 77 campi da calcio ma vi dico di più per capire ancora meglio 32 volte Piazza del Duomo cioè abbiamo noi prendiamo 32 Piazza del Duomo possiamo riempirle ogni notte con tutte le auto in sosta irregolare nella nostra città non male le vie le vie della città sono 3873 che mi fido del cuore della sera non ho fatto i conti io per una media una multa media di 84 euro che andrebbero date a queste auto in soste irregolare poi la media 84 euro perché se sei sul verde c'è di più se sei sul marciapiede c'è di più se sei in strada c'è un po' di meno insomma 84 euro a media per le 63.990 auto fanno 5.300 175.160 euro che il comune di Milano si farebbe in una notte dopodiché sappiamo che non è che poi vengono pagate tutte quindi insomma un po' così però insomma vi fa capire l'entità pazzesca di questa di quello che è stato fatto appunto nel 16 maggio con questa mappatura delle 3873 vie di Milano con queste 63.990 auto in sosta irregolare cesare cremonini lost in the weekend alle 7.51 minuti qui su crystal radio se nel weekend vi siete perduti beh adesso dovete aspettare fino a venerdì perché insomma c'è un altro che arriva settimana prossima sembrerebbe nonostante il meteo non dia bellissimo tempo nella settimana sembrerebbe che per il weekend invece si vada a migliorare quindi insomma almeno il weekend ci salviamo abbiamo parlato di questa iniziativa appunto del sosta irregolare cioè del mappatura delle soste irregolari durante una notte fatta da questi 2000 passacittadini con 800 squadre in giro una app e tutto quello che vuoi ma poi ci sono anche altri dati come ad esempio quegli ingressi in area B che vedono un picco ma che strano mi viene da dire di ingressi tra le 6.30 alle 7.30 del mattino cioè prima che scattino i divieti ok perché in città entrano oltre 42.000 auto che non potrebbero entrare dopo quando c'è il divieto solo che una volta che sei dentro sei dentro cioè è anche questa l'assurdità di area B e anche questa cosa qui non è che ti dice che non puoi entrare in assoluto con un veicolo inquinante che va a carogno come si dice in questi casi ma basta che tu entri prima poi dentro puoi girare tranquillamente o stare comunque e nessuno dice niente e poi dopo quando esci basta che esci dopo l'orario di spegnimento delle telecamere e non c'è problema poi vabbè ovviamente i picchi d'ingresso quando sono cioè adesso vieni da dire Corriere della Sera ha trovato l'acqua calda no non è Corriere della Sera cioè mi avrebbe male sono i dati che escono da Amat il picco è tra le 8 e le 9 del mattino vabbè quando la gente va a lavorare alle 3 del pomeriggio tutti a Milano con l'auto no cioè alle 8 del mattino e il pomeriggio tra le 17 e le 18 ma dai ma che strano che casualmente 8 ore dopo l'ingresso cioè quindi vabbè comunque secondo i dati Amat nei primi 3 mesi del 2024 gli ingressi medi sono stati 17.373 tra le 6 e 30 e le 7 25.293 tra le 7 e le 7 e 30 tantissimo quindi le auto ancora che entrano e quindi ci si viene da chiedere ma veramente ha senso questa RAB funziona perché in totale questa cosa qui io non capisco in totale i furbetti di RAB ma perché furbetti? ah ok giusto scusi scusi Corriere della Sera in totale i furbetti di RAB sempre che si tratta di furbetti e non invece di lavoratori con auto in perfetta regola che devono arrivare sul posto di lavoro più belle 7.30 sono 42.666 vabbè non ha senso comunque sta di fatto che casualmente ci siamo accorti che la gente entra prima dell'ingrizzo del divieto ma dai ma che strano ma posso dire che fa bene? posso dire che fa bene se tu crei una roba così che non ha senso lo sapete quanto io vorrei togliere le auto da tutta Milano per me Milano potrebbe essere una grandissima area pedonale io anni fa ho venduto la mia macchina in famiglia abbiamo un'auto sola che usiamo per andare fuori Milano quindi che usiamo quando serve nel senso non necessariamente io per muovere Milano mi muoco i mezzi quasi ovunque ormai si raggiunge praticamente ogni angolo di città e come me che non è che sono proprio l'ultimo ragazzino giovane atletico e tutto lo potrebbero fare tantissime altre persone fino ad arrivare a Kipo ma non può deambulare ok e lì è un altro discorso ma non è che tutti siamo messi così male per fortuna mi viene da dire anche ok e vi dico che il mio mal di schiena potrebbe iniziare a usarlo come scusa ma non lo uso ok furbetti no gente che deve in qualche maniera poter andare a lavorare e ripeto se non viene fatta delle regole fatte bene se non viene fatta una mobilità alternativa ben capillare e tutto ci sta che le comodità perché poi sappiamo che è culturale la cosa nel senso non è solo è anche culturale sono comodi ad andare in auto in auto ancora ci si muove e quindi troviamo una soluzione ma non un'area B Blackwood Ride on the Rhythm 8.09 martedì 21 maggio questo è il cristallistore delle 8 appunto qui a Good Morning Milano come sempre 96.2 FM Dub Plus e anche poi l'app per iOS Android insomma il sito internet lo sapete e ricordatevi sempre goodmorning.milano.it per rivedere e riascoltare tutto quello che succede qui la mattina abbiamo ci hanno raggiunto anzi in studio con noi due ospiti per parlare di un'iniziativa che avverrà appunto questo giovedì 23 maggio allo spazio Teatro 89 sto parlando di Gabriella Mosca presidente della fondazione Durante Noi buongiorno Gabriella buongiorno benvenuta e Isiraf frontman ti piace Isir va benissimo frontman dei Donkeys Forever un gruppo ormai fa 20 anni quest'anno 20 anni e sentirli bene nel senso che appunto vi sentiamo suonare ormai da 20 anni che cosa il Rolling Stone si è un omaggio diciamo ai Rolling Stones che è questa band inglese che è stata la colonna sonora della mia vita quindi ho messo in piedi questo gruppo 20 anni fa e andiamo benino dai e come direbbe un illustre magistrato che diceva che ci azzecca che ci azzecca quindi Isiraf i Donkeys Forever i Rolling Stones con la fondazione Durante Noi e Gabriella Mosca Gabriella tu ce li hai fatta azzeccare invece sì vabbè forse suoniamo la stessa la stessa musica ci siamo conosciuti tramite amici e quindi abbiamo condiviso subito questo pensiero questo desiderio che noi avevamo di organizzare una serata speciale con lo scopo di raccogliere fondi per Casa Caldera che è una casa abitata da persone con disabilità che noi sosteniamo e quindi la proposta Isi ha accettato quest'idea anzi si è fatto subito insieme a noi promotore dell'iniziativa con il suo gruppo e direi che più di così non potevamo desiderare beh suonate la stessa musica effettivamente io la prenderei come paroliera potreste pensare di fare un disco inedito no Isi 20 anni di musica 20 anni di Rolling Stone no quello che state vedendo adesso inquadriamo Isi un attimo per la regia ok sì non è Mel Brooks è Isi sai che tu assomiglia a Mel Brooks te l'hanno già detto no è uguale ragazzi è uguale a Mel Brooks non so se l'avete visto insomma niente male direi però Isi 20 anni di musica come ci si arriva a fare 20 anni di cover dei Rolling Stone che tra parentesi le sapete fare tutte perché è impossibile farle tutte non è questione di saperle fare le potremmo sapere fare il problema è che sono 400 quindi noi ne abbiamo un 150 in repertorio penso che basta si basta e avanza come si arriva appunto a fare una carriera da alter ego di Mick Jagger allora alter ego di Mick Jagger è una parola che non mi piace molto perché io l'ho sempre fatto per la musica per la passione che ho per la musica non per un'imitazione assolutamente bello ma assolutamente io cantavo queste canzoni da quando avevo 10 anni 11 anni capito quindi ce l'ho proprio dentro si arriva con la passione si arriva con la passione la passione non solo mia ma anche dei ragazzi che stanno con me insomma fate 20 anni appunto di carriera e cosa abbiamo in mente appunto Gabriella per questo giovedì è un concerto un concerto tributo appunto a Rolling Stone che però appunto farà del bene non solo a chi ascolterà la musica ma anche esatto l'obiettivo primario è che sia una serata divertente piacevole per gli appassionati di musica e non solo e credo sicuramente lo sarà grazie a questa band e per noi ha un doppio un duplice obiettivo quello di raccogliere fondi a sostegno di Casa Caldera e in particolare perché avremo il desiderio di poter organizzare insieme alle persone che abitano nella casa sono 5 persone con disabilità che vivono aiutati diciamo supportati da figure educative da persone di assistenza tutto il giorno e abbiamo il desiderio di riuscire ad organizzare con loro delle giornate fuori porta dei momenti di svago che possono essere anche delle semplici gite ci piacerebbe organizzare nel prossimo periodo estivo un weekend per spezzare un po' la quotidianità milanese che è faticosa lo sappiamo per tutti e il caldo insomma estivo pesa anche per loro e quindi organizzare questi momenti di svago soprattutto se sono uscite fuori città per le persone che abitano in questa casa è veramente faticoso e oneroso perché vuol dire organizzarsi e sostenere dei costi di trasporto infatti i costi ci sono i costi di trasporto sono elevati il costo delle persone che li accompagnano e quindi abbiamo bisogno di un aiuto ma soprattutto lo scopo è quello di sensibilizzare anche le persone che non ci conoscono far conoscere la fondazione e quindi crediamo che una serata così dove la passione di questo gruppo possa diciamo accompagnare la passione che ha la fondazione nel seguire tutte le attività che abbiamo in quartiere e allora andiamo con un po' di musica a questo punto ovviamente non potevo rimettere i Rolling Stones non potevo rimettere vediamo cosa scelgo Easy Easy potevo mettere i Beatles se vuoi dire ma io adoro i Beatles ma sono due cose diverse volevo capire quindi è sbagliata questa cosa del partito di uno partito dell'altro si può amare entrambi esiste come in tutte le fazioni come in tutte esiste esiste però chi capisce di musica non può non apprezzare i Beatles e dopo questa Rolling Stone con Star Me Up Rolling Stone Star Me Up 8 e 19 minuti martedì 21 maggio Crystal Radio 96.2 FM da Plus non lo sapete lo ripeto sembra che siete distratti lì alla guida a guardare il naviglio se è alto se è basso se esce se non esce non esce stamattina tranquilli che la situazione sta rientrando c'è ancora l'allarme meteo mi raccomando non fate stupidaggini ma siamo abbastanza tranquilli questa mattina e invece siamo molto emozionati nell'attendere quello che succederà giovedì 23 maggio all'ora 21 allo spazio teatro 89 con questo concerto tributo ai Rolling Stones con sul palco i Donkeys Forever per la fondazione Durante Noi appunto per raccogliere fondi per Casa Caldera ma non solo nel senso che appunto insomma sono tante le cose voi a fondazione voi durante noi voi che fate appunto non solo in Caldera ma soprattutto adesso lì avete creato veramente un polo come si dice polo d'eccellenza ti piace quando si dice questa cosa noi giornalisti siamo subito entusiasti siamo entrati in punta di piedi grazie a cooperativa Ferruccio De Gradi che è la proprietaria del condominio in via Caldera 111 dove siamo noi quando ci siamo conosciuti ci hanno messo a disposizione questo bellissimo spazio è un appartamento molto grande dove insieme alle famiglie della fondazione abbiamo pensato che potesse essere il luogo ideale dove poter aprire questa casa e ospitare persone con disabilità abbiamo aperto poco prima del covid quindi è stata un'esperienza doppiamente sfidante però ecco siamo qui ora la casa è abitata da queste cinque persone stanno bene sono felici sono diventati amici e sono la casa è gestita da Spazio Aperto Servizi che è una cooperativa di Milano e che ne cura proprio la gestione diciamo coordina il personale che di assistenza che presidia la casa sempre tutti i giorni tutte le ore anche di notte e ne coordina le attività diciamo insomma la vita di queste persone la cosa interessante di quello stabile chiamate come si diceva una volta è che poi c'è dentro anche una una libreria una biblioteca una biblioteca scusami infatti dopo Casa Caldera è sempre stato diciamo il nostro desiderio quando abbiamo aperto la casa pensavamo contestualmente di poter aprire già una piccola biblioteca di condominio proprio negli spazi nel salone antistante la casa che proprio favoriva questa possibile connessione anche con gli abitanti del quartiere del condominio principalmente però poi con il covid non è stato possibile gli abitanti della casa i ragazzi hanno preso possesso di questo spazio perché ovviamente si sono un po' allargati diciamo però il nostro desiderio rimaneva il nostro obiettivo rimaneva e Cooperativa De Gradi è stato molto gentile nel metterci a disposizione un locale per la nostra sede quindi per poter essere presenti in quartiere conoscere il quartiere seguire più da vicino la casa e soprattutto un altro spazio è uno spazio negozio diciamo quindi con vetrine sulla strada su via Caldera e un'entrata sul retro direttamente nel condominio proprio di fronte alla nostra sede dove abbiamo avviato questa biblioteca di quartiere grazie inizialmente a una donazione di un nostro amico che ci ha praticamente donato la sua biblioteca la sua raccolta di libri di una vita e ha preferito insomma donarli a noi e pensare che questi libri potessero avere una seconda vita un futuro e poi abbiamo aperto la biblioteca grazie a solo volontari i soci della fondazione durante noi inizialmente e poi il progetto è stato condiviso da molte altre persone che si stanno avvicinando fra cui posso dirlo la moglie di Isi Simona è una nostra volontaria e quindi la biblioteca riesce a rimanere aperta tre mezze giornate alla settimana per il momento e qualche sabato al mese dove facciamo delle attività particolari soprattutto per i bambini e stiamo iniziando a conoscere il quartiere se chi ci sta ascoltando ne vuole sapere un po' di più sappiate che su Milano News c'è una bellissima intervista fatta proprio all'interno della biblioteca caldera in occasione della civil week che siamo andati appunto a conoscerla insomma potete farmi un'idea di quello di cui stiamo parlando Isi abbiamo sentito star me up la fate? no perché? spiegami bene perché è volutamente non la fate nel senso che no non la facciamo perché comunque è forse uno dei pezzi che mi ha più stufato immagino immagino furia di farla dopo vent'anni no poi non lo so mi piace molto no no perché cosa avete pensato di fare appunto mi dicevi prima fuori onda fate i pezzi un po' meno no i pezzi più conosciuti proprio perché è un concerto più breve quindi concentriamo questa volta faremo una cosa un po' diversa dal solito perché di solito invece voi fate proprio un viaggio all'interno sì facciamo certamente ci sono sempre i pezzi conosciuti però ce ne sono parecchi anche che il pubblico diciamo non conosce insomma la maggior parte del pubblico non conosce insomma è anche un po' una missione di educazione bravissimo bravissimo nel senso che non voglio essere presuntuoso però è comunque una missione di far conoscere questa musica in Italia che non è proprio il paese proprio con la tradizione musicale dei Rolling Stones ok è più un paese che ha tradizione musicale melodica musica napoletana queste cose quindi i Rolling Stones Beatles sono già più melodici e già più facili e quindi diciamo è una bella mission tu hai vent'anni che suoni i Rolling Stones però ho saputo che due volte ti è cambiato di suonare qualcos'altro giusto? si dicevi prima cosa è successo? eri malato? avevi la febbre? no? no perché? è successo che a me personalmente piace la musica di quegli anni di quell'epoca degli anni 60 e 70 adesso mi daranno del boomer ovviamente ma no va bene però piace tutta e quindi abbiamo scelto di fare un omaggio all'Uride ai Velvet Underground l'abbiamo fatto recentemente qui a Milano sempre qui in zona al mare culturale allora dai siamo quasi in chiusura ricordiamo bene allora l'appuntamento così diamo tutte le coordinate giuste Gabriella vai giovedì 23 maggio il concerto inizierà alle 21 con le sorprese con le canzoni che ci vorranno suonare i Donks Forever e i biglietti sono in vendita per chi vuole suma il ticket il prezzo è di 15 euro l'intero ricavato andrà a fondazione durante noi per lo scopo di cui ho parlato prima comunque a sostegno di casa caldera se per chi non potesse partecipare o non volesse acquistare i biglietti tramite mail ticket o non riuscisse i biglietti saranno anche in vendita la sera del concerto e ovviamente chiediamo sempre a tutti a chi non potesse partecipare a chi lo desiderasse può fare una donazione per questo progetto che abbiamo tramite il nostro Ivan lo trovate sul nostro sito lo trovate sui social lo trovate nell'invito al concerto quindi vi aspettiamo credo che sarà una serata principalmente di divertimento energia ed educazione musicale sicuramente la passione di cui ha parlato Isi è la stessa passione che ci mettiamo noi nei nostri progetti nella biblioteca in quartiere con tutte le nostre famiglie che seguiamo Isi dacci le coordinate anche per seguire i Donkeys Forever dove li troviamo? allora abbiamo il nostro sito dove ci sono le date che siamo in porcento di fare www.donkeysorever.net ok poi la pagina facebook sempre il nome Donkeys Forever la pagina instagram insomma i social vai bene e appunto se non volete perdervi avete un modo di farlo 23 maggio giovedì questo alle sera alle 21 allo spazio teatro 89 con questo concerto tributo in Rolling Stone e diamo una mano anche alla fondazione durante noi grazie mille alla presidente Gabriella Mosca grazie mille Isi anche a te porto i saluti al resto della band che insomma bella numerosa e capace grazie mille ancora grazie anche a voi che ci state ascoltando continuate ad ascoltarci chiudo con i Beatles visto che metto che non c'è una diatriba drive my car quella un po' rock anche ci sta no va bene dai ok i Beatles con drive my car qui alle 8 e 27 crystal radio good morning milano purple disco machine e un po' di altra gente che canta questa canzone va bene questo è il disannuncio che vi posso fare su questa canzone come avete capito non è tra le mie preferite no comunque purple disco machine e as this con beat of your heart ok contenti ve l'ho detta bene così poi non dite che non vi faccio disannunci come va fatto giustamente in radio quelli bravi che lo fanno molto meglio di me comunque abbiamo parlato con la fondazione durante noi appunto di questa iniziativa che verrà giovedì 23 maggio l'ora 21 allo spazio 89 con questo concerto tributo dei Rolling Stone appunto per raccogliere fondi per la fondazione ma insomma sono tante le associazioni le fondazioni insomma il terzo settore che vive e opera a Milano ed è uscito un interessante studio sul 5 per 1000 sapete cos'è con il 5 per 1000 no è quella firma che apponete sul vostro di creazione dei redditi se la fate e se non la fate vedete le tasse che dice che il 5 per 1000 di quello che voi andreste a pagare di tasse andrà ad una associazione fondazione inter il terzo settore scelto da voi è una cosa molto interessante perché è un'operazione a costo zero nel senso che voi quel 5 per 1000 lì se non lo donate o se non lo destinate a qualcuno comunque va allo stato che poi deciderà lui come destinarlo nel computo delle varie operazioni operatività verso il sociale verso il terzo settore bene è uscita una mappa del 5 per 1000 di Milano nel che hanno non è comunque il 5 per 1000 a Milano conta 42 milioni di euro ok il record per gli enti il municipio 1 il centro raccoglie quindi il municipio 1 le associazioni con sede in centro poi anche lì è un po' una mappa un po' fatta così perché ovviamente tipo 17 milioni nel municipio 1 ma perché la sola emergency che ha la propria sede nel municipio 1 ha avuto l'anno scorso 12 milioni di euro di 5 per 1000 quindi capite che insomma è tutto un po' sfalzato l'Opera San Francesco invece municipio 3 ok 7 milioni totali tra Opera San Francesco e Lila la Lega sulla Lila e poi la Lega per la lotta contro i tumori alla Vidas invece municipio 8 1 milione 600 mila euro ad Action Aid municipio 9 quasi 1 milione 4 nell'articolo a firma di Elisabetta Andreis su Corriere Milano c'è comunque tutta la mappa e vi spiegano tutto bene dove vanno i vari insomma chi prende di più chi prende di meno come vanno ad esempio un'associazione a cui sono molto affezionato mia mamma ha fatto lontaniato per più di 25 anni all'interno di questa associazione che stanno parlando di ABIO che sono associazione bambino in ospedale 300 mila euro di 5 per mille insomma sono tanti a Money for Africa a Terre des Hommes anche la fondazione ha raccolto 226 mila euro non so che non dovrei dire anche stupito perché la fondazione fa delle cose interessanti però sapete quanto io non sopporto il calcio quindi faccio uno non riesco io sono una persona semplice da quel punto di vista cioè non riesco a scindere questi mondi non ce la faccio dopodiché invece la fondazione Milan però effettivamente è una emanazione filantropica della società Milan fa una fondazione questa fondazione fa delle bellissime iniziative a scopo benefico ma anche veramente sul terzo settore sul sociale molto importante sul territorio quindi chiedo scusa per quel anche che ho aggiunto poco fa Telefono Azzurro c'è anche questa 238 mila euro del 5 per mille insomma tantissime sono quelle associazioni a Milano che appunto raccolgono tanti soldi ma adesso invece iniziamo a ballare iniziamo a muoverci perché è il momento della sequenza sequenziale Fire Boogie Wonderland e questa è la sequenza sequenziale se non vi ricordate cosa si era un po' che non la facevamo è quel momento della giornata in cui cerco di farvi ballare cerco di farvi uscire di casa sculettando in mezzo alla strada cercando di muovere le anche di qua e di là cercando di vivere al meglio la mattinata che sta iniziando proprio in questo istante alle 8 e 44 minuti qui su Crystal Radio qui a Milano qui a Good Morning Milano 8 e 55 minuti di oggi martedì 21 maggio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e seguito grazie anche a chi ci ha scritto al 331 7853 555 che ha voluto condividere con noi la vostra mattinata e la vostra voglia di iniziare la giornata nella migliore delle maniere grazie anche magari a Crystal Radio a Good Morning Milano e alle notizie e agli ospiti che portiamo qui in studio tutte le mattine qui con voi dopo di noi Ambrogio Curti con SentiQuesta alle 9.05 tempo di ascoltarsi il giornale radio tempo di bersi una tazzurella e caffè e poi siete insieme ad Ambrogio tutta la mattina o meglio una retta insieme ad Ambrogio con SentiQuesta torniamo domani mattina lo sapete tutte le mattine siamo qui e tutte le mattine vi raccontiamo un po' quello che avviene tanta musica tanti ospiti insomma questa è la mattinata di Crystal Radio inizia inizia con noi di Good Morning Milano inizia con me al microfono ma poi va avanti tutta la mattinata con la grande musica di Crystal Radio la voce che avete sentito è quella di Fabio Ranfi qui al microfono per voi ma ringrazio Lisa Galmarini che alla produzione e alla regia che insomma sta facendo gli straordinari oltretutto vi arriva da San Donato e sappiamo in che condizioni è San Donato oggi no no per adesso nessun problema a domani ciao buona giornata buona giornata